Sagno i nuovi sindaci, litigi e violenze in provincia, presentato il premio gladiatore d'oro, arecchi in secondo. Benvenuti al nostro telegiornale politica, ecco i risultati delle amministrative 2014 in provincia di Benevento, 28 i paesi al voto. Partendo da Amorosi, eletto sindaco Giuseppe Di Cerbo, ad Apice, Ida Albanese, a Basilice, Domenico Canonico, a Casalduni, Pasquale Jacovella, a Cautano Giuseppe Fuggi, a Circello Gian Claudio Golia, a Colle Sannita Carlo Nista, a Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo, a Durazzano Sandro Crisci, a Faicchio Nino Lombardi, a Forchia Margherita Giordano, a Franeto Monforte, riconfermato sindaco Raffaele Caputo, a Melizzano Rossano Insonia, a Moiano ha vinto Giacomo Buonanno, a Monte Falcone di Valfortore, eletto sindaco Olindo Vitale, a Pannarano Fabio D'Alessio, a Paulisi Carmine Montella, a Paupisi Antonio Coletta, a Pietro Roia il nuovo sindaco è Angelo Torrillo, a Ponte ha vinto Mario Meula, a San Bartolomeo Ingaldo si cambia con Gianfranco Marcasciano, a San Lorenzello Antimo Lavornia, a San Marco dei Cavoti vittoria per Giovanni Rossi, riconferme per Angelo Ciampi, a San Martino Sannita, Carmine Valentino a Sant'Agata dei Goti, Romeo Pisani a Sant'Arcangelo Trimonte, Tocco Caudio ha vinto Antimo Papa ed Erasmo Cutillo è il nuovo sindaco di Torrecuso e dal sindaco di Benevento Fausto Pepe auguri ai sindaci eletti. E arriva qualche commento politico dopo i risultati delle Europee 2014, ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato con intensità e generosità in questa mia solitaria competizione elettorale dove ho combattuto con lealtà avversari esterni ma soprattutto cinici avversari interni. Così Mastella, candidato alle Europee nella lista di Forza Italia e non rieletto, commenta il risultato delle urne, per lui negativo. Invece il PD di Renzi ha ottenuto un risultato storico nel Paese, nel sanno il primo partito con circa 46 mila voti e che ha visto in questo mese di campagna elettorale tutti i dirigenti iscritti e simpatizzanti impegnarsi in prima persona per portare a casa questo successo. Ha vinto la speranza, la fiducia. Così, in una nota Antonio Iesce, componente dell'Assemblea Nazionale del PD. La cronaca. I carabinieri di Petrelcina hanno arrestato per maltrattamenti Renato Gagliarde, 41enne del luogo. L'uomo che vive in compagnia del padre 77enne ha iniziato a litigare con quest'ultimo solo perché aveva comprato in un supermercato una confezione di mozzarella e dei cubetti di lievito di birra per preparare una pizza. Il padre è stato colpito con una violenta raffica di pugni al volto, provocandogli lesioni di una certa importanza che hanno reso necessario l'intervento del 118. L'aggressore è stato arrestato e portato in carcere. Ancora da chiarire invece le dinamiche che hanno innescato il violento litigio tra un pensionato di 67 anni e il nipote, un pastore, 24enne, entrambi residenti a Bonea. Di sicuro, secondo i carabinieri, i motivi alla base dei loro cattivi rapporti attengono a questioni di confine tra i rispettivi terreni di proprietà. L'anziano, trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Ligori di Sant'Agata dei Goti, ne avrà per 40 giorni in quanto ha riportato la frattura scomposta dell'avambraccio destro, oltre alla contusione del volto. Il giovane invece, condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli di Benevento, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, dato che ha ricevuto una coltellata all'addome e ricoverato in prognosi riservata, pur non versando in pericolo di vita. Entrambi per ora dovranno rispondere del reato di lesioni gravi e per questo sono stati deferiti stato di libertà all'autorità giudiziaria di Benevento. La GSS SPA avvisa i cittadini utenti che a causa di lavori programmati sulla rete idrica cittadina, giovedì 29 maggio dalle 9 alle 16, sarà costretta a interrompere l'erogazione dell'acqua in via Luigi Sturzo, nei pressi dello stadio Ciro Vigorito. La GSS si scusa con i cittadini. Nuova riunione per il forum delle associazioni La città che vogliamo. Vediamo. Il forum delle associazioni La città che vogliamo, composto dai sodalizi noi cittadini, sezione provinciale paracadutisti italiani, democrazia partecipata, comitato Santa Mari degli Angeli, Pacevecchia, Monteguardia, comitato SOS Fontanelle e Via Vellino, comitato di quartiere Ferrovia, Contrade Nord, Teatro Romano, Capodimonte, Via Garrucci e Ponticelli, si è riunito per un incontro programmatico per accordarsi e tenere vivo l'impegno iniziato cinque mesi fa per tentare di smuovere le cose in città. Numerosi i presenti, i quali assieme alla portavoce Vittoria Principe, hanno affrontato le tematiche relative all'attuale situazione di disagio che riguarda l'intero territorio di Benevento, con uno sguardo alle prossime iniziative che saranno messe in campo per la vicina estate. Tante le professionalità che sono scese in campo per invitare i cittadini beneventani ad invertire la rotta, tenendo conto della disastrosa condotta dell'amministrazione comunale. L'occasione è stata anche utile per fare un resoconto del cammino effettuato in questi mesi di vita del forum delle associazioni che ha fatto uno screen delle situazioni di emergenza nella nostra realtà. Parecchi i cittadini che hanno compreso e condiviso il messaggio di speranza nel cambiamento lanciato dal forum delle associazioni La città che vogliamo, che continuerà nel suo ruolo di cernire tra cittadini e istituzioni queste ultime sempre più latitanti e indifferenti rispetto al malessere generale. A Confindustria Benevento un workshop sull'energia elettrica per le imprese. Ascoltiamo. Nella serie di Confindustria Benevento il workshop energia e opportunità di risparmio. Tante le sessioni previste, la prima e la presentazione del gruppo di acquisto energia. Che cos'è e quali sono i vantaggi? A seguire la bolletta elettrica, gli aspetti contratuali e ancora la qualità del servizio elettrico e le conclusioni affidate a Francesco Pasqualicchio, presidente della sezione meccanica installatori impianti e fonti energetiche. Il tema dell'energia, il gruppo di acquisto tutela molte imprese? Certo, tutela anche perché oggi per i contratti, iniziamo dal contratto, il fornitore intende portare il suo contratto alle sue condizioni mentre noi come gruppo di acquisto diamo delle linee di guida come devono essere i contratti e soltanto questi aderiscono alle gare che noi formuliamo e per cui si tutela, ma soprattutto oggi bisogna stare attenti. Noi facciamo contratti per un anno, per cui l'anno dopo si trova un altro gestore a miglior convenienza e si prende questo come fornitore. Qualche data, oltre 450 mila euro risparmiati nel 2013? Sì, molto oltre, abbiamo di là tutte le sì, perché se si va a guardare, ognuno singolarmente va a fare il suo contratto, ovviamente non ha un potere grosso. Noi abbiamo avuto, nonostante quest'anno, il 2013, le aziende sono diminuite, però abbiamo avuto una grossa fornitura di kilowattore, per cui abbiamo notato, infatti la struttura ha fatto il conto che c'è stato questo risparmio, che purtroppo devo dire per noi aziende non è che si sente tanto, perché resta sempre un costo molto alto. Ma noi, in qualità diciamo di Confindustria, abbiamo una serie di nostri associati che si occupano di risparmio energetico e quindi propongono delle soluzioni per le aziende appunto proprio per il risparmio energetico, sia nella produzione di pannelli fotovoltaici o impianti illuminazioni a LED. Quindi stiamo cercando di creare rete tra gli iscritti diciamo di Confindustria, proprio per cercare di risparmiare, diciamo, energia elettrica a fine anno. E' stata presentata l'edizione 2014 del premio Il Gladiatore d'Oro a Rechi II. A condurre la serata del 6 giugno sarà il giornalista Rai Franco Di Mare, presente anche il noto critico d'arte Vittorio Sgarpi. Vediamo. Il 6 giugno 2014 al Teatro San Marco di Benevento l'edizione 2014 del premio Il Gladiatore d'Oro, stavolta affiancato al premio a Rechi II. A condurre la serata Franco Di Mare, premiati giovani artisti sanniti ed eccellenze del territorio. Sì, nasce da una riflessione, dall'incontro tra Franco Di Mare e il professore Cimitile, nel quale appunto si è riflettuto sulla contingenza attuale, che è una contingenza evidentemente molto sfavorevole, soprattutto per i giovani. Per cui è stato conseguenziale individuare un percorso artistico per questo evento, che invece che, come dire, accendere i riflettori, esaltare chi già ce l'aveva fatto, quindi era già stato premiato in un certo senso della vita, invece desse spazio e visibilità a chi ancora probabilmente deve conquistarsi un proprio spazio, pur avendo avviato un percorso dove già ha avuto dei riscontri. Questo è l'impianto concettuale. Sono tante le eccellenze del territorio che spesso vanno via? Allora, le eccellenze del territorio beneventano sono infinite. Purtroppo non premiate troppo spesso a favore, come dire, di nomi più noti del panorama nazionale, però queste sono scelte evidentemente determinate da... sono scelte personali, politiche e quant'altro. Oggi sicuramente la provincia manifesta un'inversione di tendenza rispetto al contesto generale. Questa edizione, che è una edizione zero, in cui c'è una trasformazione da gladiatore d'oro a Narechi II, quindi rispetto nella tradizione, però evoluzione, si vuole fare invece una scelta di premiare il territorio. Infatti, come ospite noto, abbiamo soltanto un ospite di eccellenza, che è sempre importante in confronto con l'esterno, che è Vittorio Sgarbi. Il resto sono tutti artisti sanniti. Il premio consiste in una statua ispirata a Richi II. Richi II è un duca che è diventato duca a 22 anni, quindi c'è una corrispondenza anche concettuale nella scelta di questo personaggio, oltre che, insomma, è legato alla grandezza della storia beneventana di quel periodo. Ed è quindi una sua raffigurazione realizzata su un bozzetto, un disegno del maestro Mario Ferrante, al quale poi è stata tratta questa fusione che è appunto il premio. Un principe giovane come a Richi II per un premio giovanile. Sì, è proprio così. A Richi divenne duca di Benevento a 22 anni e ha rappresentato una speranza e un sogno di grande futuro per la città di Benevento. Sicuramente ha significato per la città e per la nostra provincia uno dei momenti più importanti di sviluppo e di crescita culturale, economico, sociale. Un momento di grande splendore. E quindi i giovani, il ruolo che i giovani possono avere, il ruolo che i giovani debbono avere in un momento come questo. Quindi se vogliamo è anche il tentativo di indicare un esempio positivo attraverso a Richi II e attraverso quello che riceveranno il premio a Richi II. Una manifestazione che però non vuole essere una manifestazione di trattenimento leggero che pur sposando la sobrietà come richiedono i tempi sia però un cammino nella storia di Benevento. Quindi nella storia di Leon Cobardi. Qualche cosa che si ripeterà nel tempo e col quale intenderemo appunto premiare giovani sanniti che accendono questi sogni e questa speranza che si afferma. Contrariamente a quanto accade col gladiatore d'oro che invece è un premio alla carriera, cioè un premio alla maturità di chi ha portato contributi positivi nei diversi settori della vita dell'uomo. La serata del 6 giugno con Franco Di Mare e tra i presenti Vittorio Sgarbi. Sì, abbiamo scelto come persone che ci dessero una mano, soprattutto Di Mare. Franco Di Mare perché ci aiutasse a dare questo taglio insieme di Sannio Prati, di manifestazione che è di Orgoglio Sannita ma che sia di un target nazionale e che sia anche di target scientifico appunto che anche nei suoi momenti di intrattenimento culturale e artistici si ricollegasse in qualche modo al cammino della storia che vogliamo fare. Franco Di Mare è stato eccezionale con delle idee stupende, credo che cominci con lui una collaborazione con questo territorio che durerà nel tempo perché noi siamo convinti che Areco II debba radicarsi e svilupparsi nel tempo. E poi pur essendo tutta la manifestazione in mano a risorse sannite sia uomini di cultura, di ricerca, di storia, sia artisti che interverranno per riproporre Vicente legata e legata ai Ronco Bardi, la presenza di una figura di livello che sia riconosciuta sul piano nazionale e internazionale come un grande esperto dei problemi, dei beni culturali e della storia del nostro paese. In qualche modo impegnare sul nostro patrimonio figure top di questi settori. Vittorio Sgarbi significa questo, cioè che Vittorio Sgarbi venga qui in una serata a parlare di noi, a parlare della nostra storia, dei nostri beni culturali è qualcosa che noi speriamo possa essere non soltanto un segno da mantenere noi qui ma anche qualcosa che giri per il mondo come giudizio su questo eccezionale patrimonio che teniamo. L'agenda il 28 maggio alla CGL è un incontro per discutere delle problematiche degli ambiti sociali, in particolare dell'ambito B05. L'incontro è organizzato dal segretario FIP CGL provinciale Gianna Serena Franzè e quello della CISL FIP provinciale Attilio Petrillo. Sarà installato il 28 maggio a Piazza Castello a Benevento il mock-up del Predator B dell'Aeronautica Militare. Il drone, impiegato in attività di ricognizione e sorveglianza e attualmente in servizio presso il 32esimo stormo di Amendola, è un'esclusiva riservata all'Università del Sannio in occasione del workshop internazionale sulle misure per l'aerospazio che si terrà a Benevento il 29 e 30 maggio. L'evento, che richiamerà in città più di 100 studiosi da ogni parte del mondo, gode del patrocino dell'Agenzia Spaziale Europea, oltre che di altri istituti di ricerca e società del settore. L'inaugurazione si terrà il 29 maggio alle 9 al Museo del Sannio. Il Dipartimento DEM dell'Unisannio e il gruppo Giovani Imprenditori Confindustri a Benevento presentano Io Merito un'opportunità, corso sostitutivo di tirocinio sulle reti d'impresa, che si terrà il 28 maggio alle 10 al Dipartimento DEM in Via delle Puglie nell'Aula Ciardiello. La Flaica Cab Benevento e gli operatori della cucina dell'ospedale Rummo terranno il 28 maggio un flash mob con volantinaggio nei pressi della Direzione Territoriale del Lavoro a partire dalle 9.30. Nella cucina dell'azienda ospedaliera Rummo continua di fatto ad operare in regime di straordinario personale dipendente di altri cantieri e centri cottura, il tutto a danno del personale e per lo più part-time, scrive la Flaica Cab. Alle 17.30 alla Biblioteca Provinciale sarà presentato il libro L'Allegro Naufragio, la scomposizione del centrodestra e la crisi del bipolarismo di Gennaro Malgiri, edizioni Minerva. Introdurrà e coordinerà Pasquale Vespoli di Mezzogiorno Nazionale. Interverranno Sandro D'Alessandro, Gian Cristiano Desiderio e Nicola Sguera, assieme all'autore. E nella stessa giornata, alle 10.30, presso la Sala del Consiglio di Palazzo di Simone, si terrà la presentazione del libro Accounting e Potere, il contributo interpretativo del Governmentally Framework di Roberto Stacchezzini. Alle 18.00 all'Ebbi Chic Café in via Manciotti, nelle adecenze dell'Arco di Traiano, Teatri e Culture, il gruppo di lettori Leggere per Leggere ed Exit Strategy presenteranno il libro Nove volte Donna, ed edizioni Melagrana di Anna Verlezza. Alle 18.00, al Salone Leone XIII del Palazzo Arcivescovile in Piazza Orsini, l'incontro di preparazione al Trentesimo Convegno Pastorale Diocesano, programmato al Centro di Cultura dell'Università Cattolica. Il tema dell'appuntamento è la condizione giovanile in Italia e nel Sagno. A illustrare il rapporto giovani sarà Emiliano Sironi, docente dell'Università Cattolica, mentre Federico D'Agostino spiegherà i risultati della sua ricerca, giovani di paese in un mondo globalizzato. Interverranno l'Arcivescovo di Benevento, Andrea Muggione, e il Vescovo di Cerreto Sannita, Telese Terme Sant'Agata De Goti, Monsignor Michele De Rosa. E infine il calcio. Benevento, il Benevento di Mister Brini, riprenderà gli allenamenti mercoledì 28 maggio alle 15.30 al campo di Paduli. Intanto il giudice sportivo ha combinato un'ammenda di 2.000 euro per il Benevento Calcio SPA perché proprio i sostenitori durante la partita di semifinale Lecce-Benevento in campo avverso hanno introdotto e acceso numerosi fumogeni nel proprio settore. È tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima.